Oh Maurizio, senatore lettieri, le camere sono sciolte, i giochi partono e da Bari parte invece un messaggio rivolto ai giovani. Sì, da Bari riparte un'azione politica che come al solito si celebra nel modo migliore, si celebra tra la gente, nel rapporto di lealtà, con la schiena dritta, con umiltà ma anche con grande tenacia e con un amore straordinario per questa città e per i suoi giovani perché dobbiamo aiutarli a studiare, soprattutto quelli che meritano e che purtroppo per i tagli che subisce l'università non riescono ad andare avanti perché hanno problemi di indigenza economica. Voglio ringraziare l'università di Bari perché faremo insieme questa iniziativa, è un premio di studio, è una cosa simbolica però saranno tre premi di studio per tre giovani che sono meritevoli ma che purtroppo si trovano in una situazione di disagio economico e per cui un messaggio per continuare a credere nelle cose importanti, in merito è una cosa importante, la solidarietà anche. Le strade del senatore Lettieri portano una direzione verso Roma o da Roma verso Bari? Le strade della buona politica portano in un'unica direzione, verso il popolo e verso la gente. Grazie. Prego. Senatore, si posi da questo? Senatore, ah!